E' stato un Halloween tranquillo e in sicurezza quello appena trascorso in provincia di Pesaro Urbino, eccezione fatta per un singolo episodio di ubriachezza molesta trasformatosi in danni a spese della comunità. E' quello che ha visto protagonista un 23enne pesarese incensurato che ha trasformato le sue pene d'amore in guai per la propria fedina penale. Reduce da una lite con la ragazza in preda ai fumi dell'alcol, il giovane in questione ha infatti scelto un modo alquanto malsano di sfogarsi. Decidendo di fare irruzione all'alba di lunedì nella sede dell'ARPAM di via Barsanti e, dopo essere penetrato da una porta sul retro degli uffici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche, ha preso un estintore e ne ha svuotato l'intero contenuto fra gli uffici danneggiando stanze e documenti. L'irrazionale comportamento non è sfuggito a un dipendente dell'ARPAM sollecitato dall'allarme scattato al momento dell'effrazione. Allertata la polizia, il giovane è stato trovato ancora sul posto appollaiato sul tetto dell'edificio dove ha accampato sbilenche giustificazioni come la ricerca di un gatto scomparso. Messo alle strette si è potuto infatti ricostruire l'accaduto e nessuna giustificazione di pene d'amore è stata sufficiente a evitargli l'arresto.